Per far quadrare i conti dovremo aumentare in modo consistente i prezzi, ma molte aziende potrebbero dover anticipare il momento della chiusura e l'allarme lanciato da Bernabò Bocca, presidente degli albergatori italiani. La bolletta energetica ha un costo medio di circa 120.000 euro per struttura. Oltre al 18% del volume d'affari del settore viene assorbito dal pagamento delle forniture di energie elettriche e di gas. Secondo il presidente di Federalberghi, le urgenze fissare un tetto al prezzo di gas ed energia elettrica, rateizzare le bollette e la cassa integrazione per i dipendenti delle aziende che sospenderanno l'attività. Grazie a tutti.